Buonasera signore e signori, grazie di essere qui, io sono molto onorato di essere in questa bella iniziativa, in questa bellissima sala di Rechetto e vi porto anche i saluti, non so se è mescolato nella polla, ma lui è timidissimo, del mio caro amico l'editore Raffaello Cortina con cui da un po' di anni abbiamo messo su questa collana, scienza e idee. Ora uno potrebbe pensare cosa c'entra mai in Babilonia, dunque la grande tradizione dell'archeologia mesopotamica eccetera eccetera con la scienza e idee. La risposta secondo me proprio si trova fin dalle prime pagine di questo bel libro di Crusasta, io ho conosciuto Paolo per un altro suo libro che si intitolava La Mesopotamia prima dell'Isla, che è un libro estremamente interessante perché faceva vedere gli elementi di continuità e di rottura anche nella storia mesopotamica, cosa è rimasto alla Mesopotamia con la conquista islamica e cosa invece è profondamente cambiata. E leggendo quel libro mi venuto più in mente di proporli un testo che fosse emblematico delle esperienze mesopotamiche, allora quale è il soggetto migliore che Babilonia? Perché per molti versi Babilonia non è una città, Babilonia è la città, è il grande modello di qualsiasi esperimento urbano e sotto questo profilo è in un qualche senso anche che è la nostra città e cercherò di spiegare perché è anche la nostra città. Ovviamente trattandosi appunto di un collage si chiama scienza e idea, per prima cosa la scienza, non c'è disciplina scientifica classica che non abbia le sue radici nella civiltà o nelle civiltà plurale della Mesopotamia, tra i Sumeri, tra i Babilonesi, tra gli Assiri, solo per dare le tre denominazioni più importanti. Non c'è civiltà, non c'è civiltà scientifica, dalla matematica all'idraulica, dall'astronomia a quello che noi chiameremmo la fisica, alla classificazione degli esseri viventi. Ecco, non c'è scienza che non abbia qui le sue, una volta si diceva radici, a me non piace il termine delle radici, la ritorica delle radici, ma non ritrova, va qui il numero da cui poi queste discipline si sono sviluppate, discipline che si sono modellate nel mondo mesopotamico, prima del miracolo greco, ma anche dopo il miracolo greco, perché noi non dobbiamo dimenticare che gran parte di quella che chiamiamo la grande rivoluzione ellenistica del sapere che si è sviluppata nelle realtà politiche create dall'esperimento di Alessandro Magno, questa grande civiltà ellenistica ha appunto incorporato molto del sapere, il Mesopotamico come ha mostrato brillantemente Lucio Russo in un bel libro dedicato appunto a questa rivoluzione dimenticata. Dimenticata diceva Lucio Russo perché questo tipo di esperienze così stratificate e millenarie sono state in parte offuscate dal prestigio e dal fulgore della cultura greca, ma anche direi da tradizioni ostili a questo tipo di cultura, da tradizioni che hanno visto in Babilonia sostanzialmente la città della bellavazione del peccato. Babilonia la grande finalmente è caduta, la madre delle Costitute come si vede nella scrittura greca e questi cliché hanno operato negativamente nei confronti di questa terra che è stata la grande città della scienza, ma non solo della scienza, la città del diritto, la città della poesia, la città di una grande cultura materiale e a mio avviso anche, come adesso hanno mostrato numerose ricerche anche su città vicine, c'è nell'esperienza mesopotamica un embrione molto importante e molto forte di democrazia. Qui c'è anche un'esperienza politica unica profonda e significativa che noi troviamo per baglioni, per esempio in alcune versioni dell'epopea di Ghirida, ma esser tanto per fare un esempio, ma appunto quei babilonesi in un qualche modo siamo noi, noi abbiamo lo stesso gusto per la curiosità intellettuale, dovremmo avere lo stesso rispetto che avevano i babilonesi e delle tradizioni con cui venivano a contatto, traducono queste cose, cioè prendono i testi dei popoli vicini con cui hanno anche avuto delle lotte molto feroci e li salvano, praticano plurilinguismo quindi nella cultura orale e nella cultura scritta, altro che la confusione delle lingue dell'episodio libri, per il contrario, è la sfesa delle lingue, la sfesa di vocabolari in effetti, nascono i vocabolari, sono degli elementi di una conquista della cultura come molte cose, che è fondamentale.